Una task force di 30 mezzi e uomini sono state all'opera dal pomeriggio di ieri per rendere sicure strade e viabilità per il fronte nevoso che si è abbattuto sulla provincia di Pesaro come in molte altre città del centro Italia in queste ore. Pioggia lungo la costa e nevicate dai 400 metri in su sono la fotografia della sua evoluzione. Ma come testimoniano le tante foto e video arrivate sulla pagina di reporter di strada nella notte e nelle prime ore della mattinata la neve ha imbiancato anche a quote più intermedie come la zona di Cartoceto, all'Alberone o a Piagge e a Qualagna fino a Monte Matera e al passo del Beato Sante o Fratte Rosa o lungo la provinciale 57 in località Monte Gaudio a quote però oltre ai 400 metri. Oggi siamo partiti con le nostre telecamere verso il Monte Feltro in direzione Urbino dove incominciamo a vedere il bianco ai bordi della careggiata da Cannavaccio in su. Urbinate che da ieri è sotto una costante anche se non massiccia nevicata a fasi alterne come intensità come ci dice anche il sindaco che proprio in considerazione del bollettino della protezione civile delle marche valido sino alla mezzanotte di oggi che nel quadrante 2 la provincia di Pesaro Urbino appunto dava un'allerta gialla con accumulate dai 20 ai 60 centimetri di neve abbiamo pensato ieri di chiudere le scuole per non creare disagi a genitori e studenti per recarsi a scuola. Ieri sera abbiamo dovuto decidere di chiudere le scuole perché ovviamente Urbino è sempre difficile prevedere cosa succederà. Non ci sono al momento disagi perché comunque i mezzi anti ghiaccio e anti neve laddove è servito sono intervenuti prontamente perché ovviamente erano previste le nevicate. È chiaro che il disagio anche alle famiglie che hanno i bambini a casa i ragazzi a casa lo capiamo benissimo però sicuramente non si può rischiare di magari durante le lezioni avere anche se la mattina magari c'è poca neve poi viene copiosa quindi rischi per la circolazione specialmente da noi a Urbino che le strade sono con notevoli pendenze quindi è sempre molto pericoloso e bisogna stare sempre molto attenti. Qui siamo vicino ai Torricini e nei punti in cui la neve è intonsa diciamo che al momento se ne sono accumulati una quindicina di centimetri. Unito poi alla scarsità di gente in strada presentavo un Urbino insolita con i soli studenti universitari che si aggiravano loro malgrado tra gli stretti vicoli innevati. Per le strade invece di comunicazione ordinaria circolazione commerciale pubblica senza grossi affanni grazie anche ai mezzi spargi sale di provincia e comune in continuo movimento che hanno fatto sì che i mezzi pubblici si potessero muovere anche senza l'ausilio delle catene. Ci spostiamo poi in un altro versante della provincia la Val Cesano dove a Pergola è notoriamente stata sempre una di quelle più interessate da precipitazioni nevose che hanno richiesto anche l'attivazione del piano neve. Anche qui il paesaggio che ci accompagna è simile a quello che abbiamo visto nell'Urbinate a differenza però del centro della città dei bronzi dorati che si presenta sgombro da neve. Ma questo non deve trarre in inganno perché Pergola ha una estensione di territorio comunale e una morfologia che vede diverse frazioni tutte a quota neve ed il sindaco come il pari suo di Urbino ha ben pensato di chiudere le scuole di ogni ordine grado e attivare sin dalle 5 della mattina i mezzi antineve. Le strade sono tutte transitabili, i mezzi continueranno a girare là dove ce n'è la necessità fino al tardo pomeriggio quindi fino all'imbrunire e potremo ritrovare domattina e questa notte una decina quindicina di centimetri di neve. Abbiamo deciso di chiudere le scuole perché l'idea è sempre quella di tutelare da eventuali pericoli soprattutto i nostri più giovani concittadini e i nostri ragazzi. Sarebbe davvero inutile far rischiare un pulmino carico di bambini anche perché si può scivolare anche su 5 centimetri di neve. Per rendersi conto delle parole del sindaco basta allontanarsi di poco dal centro e ad entrarsi guidati dall'assessore all'interno dove il paesaggio cambia radicalmente dal centro. E questa mattina già dalle ore 6 sono partiti sia i mezzi comunali che alcune ditte esterne per la pulizia delle nostre strade che vogliamo ricordare sono 330 chilometri di strade e 113 chilometri quadrati di territorio quindi un territorio molto esteso con molte case sparse però al momento sembra che non ci siano disagi insomma siamo riusciti bene nel nostro intento e nel pulire le strade.